Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, la persistenza di un campo di alta pressione sul bacino del Mediterraneo, una cintura anticiclonica anche se bassa di latitudine, ha determinato nel corso delle ultime settimane una pesante anomalia termica positiva su tutta la nostra penisola, compresa la nostra regione, oltre alla scarsità di precipitazioni, specie negli ultimi giorni, in questi giorni festivi. Ora, nei prossimi giorni, già a partire da domani, questa alta pressione tenderà ad abbassarsi di latitudine a causa di un'ondulazione del getto atlantico, delle correnti oceaniche, dunque si abbasserà il flusso perturbato oceanico verso sud e tra domenica 31 e lunedì primo dell'anno una moderata perturbazione attraverserà la nostra regione, dispensando precipitazioni. Il contesto termico subirà una lieve diminuzione, avremo dunque una diminuzione anche delle temperature, anche se non ci sarà nessuna ondata di freddo. In dettaglio vediamo il tempo previsto nei prossimi giorni, partendo da sabato 30 dicembre, su tutta la nostra regione avremo ancora condizioni di cielo nuvoloso o irregolarmente nuvoloso, con correnti umide da ovest. Tuttavia non dovrebbero verificarsi precipitazioni, tutta più qualche goccia di pioggia lungo le aree costiere durante le ore notturne. Le temperature non subiranno particolari variazioni rispetto ai quali attuali, ventilazione debole occidentale e mare poco mosso. Per San Silvestro, domenica 31 dicembre, ancora condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, con una maggiore probabilità di precipitazioni, specie tra la serata e la nottata. Dunque proprio nella nottata di San Silvestro qualche pioggia potrebbe interessare il settore settentrionale e occidentale della nostra regione, ma si tratterà di piogge molto molto deboli. Le temperature subiranno una lieve diminuzione con ventilazione, disporsi prima da sud e poi successivamente da ovest e nord ovest. Il mare da poco mosso a mosso. Infine, per il primo dell'anno, giorno di capodanno, avremo il passaggio di una moderata perturbazione, come ho anticipato, e dunque avremo un peggioramento delle condizioni meteo con precipitazioni in intensificazione e queste piogge potrebbero anche assumere carattere di rovescio. Le precipitazioni saranno più probabili sul settore occidentale della nostra regione. Le temperature subiranno un'ulteriore diminuzione, portandosi quasi su valori in linea con la media del periodo. La ventilazione è tra debole e moderata da ovest a sud ovest e mare tra mosso e molto mosso. Poi successivamente, tra lunedì, tra martedì e mercoledì, avremo ancora condizioni di tempo instabile sulla nostra regione, soprattutto nella giornata del 2 con qualche precipitazione. Poi tra il 3 e il 4 di gennaio avremo un parziale miglioramento con temperature in liere aumento, ma una novità è attesa nel weekend dell'Epifania. Come possiamo apprezzare da questa mappa prevista per venerdì 5 gennaio, osserviamo come l'alta pressione si porterà, si espanderà dal sud della Spagna verso il nord atlantico, quindi avremo rinforzo della pressione in pieno oceano atlantico e questo consentirà lo scivolamento di correnti fredde dal nord atlantico verso la penisola iberica, verso il Portogallo, per poi piegare da ovest a sud ovest, dunque interessare tutta la nostra penisola da ovest a sud ovest. Si tratta di correnti umide in un contesto anche freddo, poiché avremo la formazione, secondo il modello europeo di Reading, questa mappa è stata elaborata dal centro di Reading, avremo la formazione anche di un minimo depressionario, probabilmente sul Golfo Libre, quindi una circolazione depressionaria a carattere freddo potrebbe interessarci proprio nella giornata festiva, cioè il giorno 6 gennaio, l'Epifania. A seguire questa evoluzione potrebbe aprire la strada a un tipo di tempo tutto diverso, completamente diverso rispetto a quello che stiamo vivendo in questi giorni, poiché potrebbe verificarsi una discesa più massiccia di aria fredda dal nord Europa che potrebbe interessare, questa è un'ipotesi, anche la nostra penisola come la nostra regione, determinando quindi una fase marcatamente invernale, questo tra l'8 e il 10 gennaio. Ecco, questa è una tendenza a lungo termine che andrà rivista e rivalutata con le prossime uscite modellistiche, pertanto vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito mediegiuliacci.it da Giuseppe Stabile, una buona fine ed anno e un buon principio.